Piccola intro velocissima ragazzi, prima del video voglio soltanto dirvi che questo è un format che mi avete consigliato in tantissimi, l'avete scritto in commenti di rispecchiare le truppe di Minecraft, quindi mob di Minecraft su Clash Royale e quindi rispecchiare un po' le varie caratteristiche già esistenti di queste carte. Mi raccomando giù di mi piace, proviamoci ad arrivare a 1500 mi piace per questo video davvero epico, se avete consigli ovviamente per altre carte a cui non ho pensato lasciate il vostro commento, la vostra idea qui, sto appunto nei commenti, mi raccomando un bel mi piace. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, oggi siamo di nuovo su Clash Royale perché continuando, mettiamola così, la serie delle nuove carte, oggi vi propongo un aggiornamento che ovviamente sarebbe impossibile, improbabile, ma davvero una figata enorme, sono i mob di Minecraft ambientati su Clash Royale. Ho tentato di trovare un mob per ogni carta, senza dare poteri aggiuntivi ma basandoci su quelli già esistenti. Andiamo a vedere, adesso mettiamo come al solito qualche replay sotto per alleviare un po', no, per fare sembrare il gameplay tutto un po' più tranquillo e iniziamo a parlare delle prime carte ideate, ne abbiamo tante realizzate per ora soltanto 4, una comune, due epiche e una leggendaria. Iniziamo un po' a vedere, la prima carta, iniziamo da quella comune, proprio velocissima, la prima carta che vi porto l'idea sarebbe i Scheletri. Gli Scheletri, quale carta, cioè pensando, ci mettiamo così, facendo un po' di mente locale, c'è che carta, quale carta potrebbero assomigliare? Beh, sicuramente Goblin Lanceri, una carta che costa poco, versatile, la puoi utilizzare in tanti modi ed è sicuramente fantastica. Poi ce li vedo bene, no? Eh, scusa, Scheletri che sparano, Goblin Lanceri hanno le loro lance perché sparano proprio calza a pennello, meraviglioso. Direi qualcosa di fantastico, questa mi è piaciuta, è venuta molto bene. Dopodiché, che cosa andiamo a fare? Avevo immaginato anche gli Scheletrini, questa carta non l'abbiamo realizzata, è soltanto un'idea. E gli Scheletrini, quelli appunto che costano uno, da abbinare ai Silverfish che li mandi giù, veloci, li killi veloce, fanno dannetto così. No, fanno un bel danno perché i Silverfish sono forti, però hanno anche poca vita, quindi secondo me anche questo è azzeccatissimo in pieno. Meravigliosi, i Silverfish sono tanta roba, sarebbe avere questi Silverfish. Cioè, sarebbe fantastico avere un gioco del genere, giuro, con le carte di Minecraft. Più che altro fatemi sapere, ragazzoli, se volete che io faccia anche qualche struttura di Clash Royale ambientata su Minecraft. Cioè, nel senso, no, realizzata appunto su Minecraft, non ambientata, qualche struttura tipo la torre del Bombarolo, ad esempio, buttata la una, realizzata su Minecraft. Questo è un progetto a cui pensare. Comunque, tornando a noi, alle nostre carte, un'altra carta che vi vorrei far vedere è quella del Principe. Esatto, allora, il Principe è una carta che, voglia, va veloce, quindi sta a cavallo. Quale mob abbiamo a cavallo su Minecraft? E lì, partiti dei, dei, che cazzo di mob potrebbe essere? Che mob è? Che mob non è? Beh, è il, cosi, il cavallo, quella, quel mob ha giunto poi nella 1.9, quella trappola quando, che spawna quando viene il temporale. Ovvero, quei, gli scheletri a cavallo, che sono qualcosa di meraviglioso, ma che tu trovi il cavallo lì, poi ti avvicini e parte la trappolona. Beh, quella roba potrebbe essere davvero il Principe, è una carta, ovviamente, epica perché è molto forte. Invece di, l'unica pecca è che invece di arrivare farebbe danno ad aria con l'arco. Però, però, guardate che secondo me sarebbe figo lo stesso. Sarebbe davvero una figata notevole avere una roba del genere. Cioè, vi immaginate che figo? Tipo, ti avvicini, sto scheletrone va veloce, aumenta la velocità e poi si butta giù e va addosso, e ti inizia a sparare le torri da lontano. Ancora più figo del Principe normale. Tanta, tanta roba, secondo me. Un altro mob che avevo visto interessantissimo, questo anche secondo me è qualcosa di meraviglioso ed è davvero una figata incredibile, è il gigante, il gigante di Clash Royale. Madonna, quale? Non il gigante royale, no, il gigante, quella truppa che c'è anche su Clash of Clans, il gigante proprio, vero e proprio. Beh, il gigante, lo vedrei benissimo con lo zombie gigante. Cioè, cosa meglio di un gigante per un gigante? Uno zombie che ti spacca malissimo qualsiasi cosa. Uno zombie di quelli grossi, no, che poi hanno un hitbox ridotta, in Minecraft soltanto sulle gambe perché non potevano creare hitbox così grandi, però, beh, tantissima roba, anche questo ce lo vedrei abbastanza bene. Adesso andiamo a vedere un altro, vado a selezionare un altro replay, questo ha tre stelle carino. E poi andiamo a parlare dell'ennesima carta, una carta epica, anche questa realizzata, la strega, la strega che si potrà tranquillamente rispecchiare nella strega di Minecraft che lancia pozioni, ok? Lei, la strega, fa danno ad aria anche su Minecraft, quando lancia pozioni fa danno ad aria, quindi va bene, perfetto. Come spawn in Clash Royale, in Clash of Clans, la strega spawna scheletrini, qua potrebbe spawnare Silverfish, il corrispettivo, ovviamente. E tanta roba, scusate, spawna Silverfish, davvero, davvero una figata, notevole. Mi piacerebbe vedere delle carte del genere, cioè sarebbe figo, per carità, mettiamola, anche su Minecraft una roba del genere sarebbe eccessivamente figa. Ma va bene, non ci perdiamo in chiacchiere. L'ultima, ce ne mancano un paio di carte, il Creeper, il Creeper sarebbe un'altra carta epica. Il Creeper lo vedrei benissimo al posto del... eh, in verità il Creeper l'ho visto in due sezioni differenti. Con un Creeper, tipo multiple Creeper, tanti Creeper che sarebbero gli spiriti, quelli del fuoco, aggiunti Fire Spirits, ok? Quelli aggiunti da pochissimo in Clash Royale. Oppure, dall'altra parte, era il gigante scheletro, perché lui arriva e poi esplode. Oddio, non lo so, voi come lo vedete? Io sono un po' indeciso, devo essere sincero, non so bene quale posizione prendere, se da una parte o dall'altra. Però, ai dai massima, è carina l'idea di vedere una roba del... cioè, boh, non lo so. Ditemi voi. Io lo vedrei più come gigante scheletro. Qualcuno... ho sentito, lo vede un po' più come Fire Spirit. Lascio il dibattito aperto. A voi l'ardua sentenza, signori, fatemi sapere che cosa ne pensate. Ultima, ma non ultima, carta di oggi. Quella che abbiamo realizzato è una carta leggendaria. Carta leggendaria... Eh beh, abbiamo la scelta tra attualmente 5 carte leggendarie. È una leggendaria che costa 3. L'Henderman. L'Henderman, come lo vedresti bene? Diciamo, quale carta può rispecchiare l'Henderman? Beh, lì hai massima, io lo vedrei tantissimo nel Minatore. Perché nel Minatore? Perché tu evochi l'Henderman e lui si teletrasporta dove gli pare. Quindi è tranquillo, lui può andare in qualsiasi parte, in qualsiasi posto. È libero. L'Henderman va dove gli pare. Quindi tu lo metti, lo piazzi, lui spawna davanti e poi si teletrasporta dove gli pare. Cioè, quale più azzeccata dell'Henderman per il Minatore? Meraviglioso. Non credete? Sì, sì, secondo me sarebbe davvero una bellissima figata. Guardiamoci l'ultimo replay per oggi. Ovviamente parecchi mi hanno detto, ma selezioni i replay... Beh, intento di selezionare i replay più belli, magari quelli più avvincenti. Almeno da ritenere un po' più viva la vostra attenzione. Magari seguendo anche la partita mentre io parlo. Perché se no diventa noioso il tutto. Va bene, ci mancano pochissime carte. Questa era l'ultima che avevamo realizzato. È stata appunto quella leggendaria. Ho in mente di realizzare altre due leggendarie. Non vi dico niente però, non vi spoilerò nulla. Perché se no non c'è assolutamente gusto. Fidatevi che anche queste altre due leggendarie calzano perfettamente a pennello. L'ultima carta che ho ideato, che per oggi vi svelo, è il Cavaliere. Il Cavaliere lo vedrei benissimo. Quello che va a piedi, è l'appidante, insomma, la fanteria, il Cavaliere, dai. Quello che praticamente non usa più nessuno, ma ha incontrato il Cavaliere. Lo vedrei benissimo in un zombie, in uno zombie. Perché ha parecchia vita, quindi lo potresti vedere bene in una truppa che ha parecchia vita. Che va piano, perché lo zombie oggettivamente va piano, ma che fa abbastanza danno. E il resistente fa danno e tutto il resto. Secondo me potrebbe essere carino. Bene, questi ragazzi sono le mie idee per finire. Basta, non ho approfondito tanto la questione. Ho soltanto rispecchiato alcune carte che potrebbero tranquillamente essere ambientate su Clash Royale di Minecraft. Riprendendo, appunto, a grandi linee, le caratteristiche già esistenti. Perché se fosse andata a inventare altre carte sarebbero venuti fuori poteri infiniti. È carino, secondo me, ambientare le proprie... Queste carte in un altro... Cioè, ambientare, appunto, con poteri già esistenti. Rispecchiarle, mettiamo così. Potrebbe essere una cosa interessante. E voi? Che cosa avete in mente? Se vi viene in mente qualche mob da utilizzare, magari qualche mob a cui non ho pensato, qualche truppa a cui non ho pensato. Per esempio, i pecca e roba varia non ho avuto l'ispirazione giusta ancora per creare carte. Perché poi i mob di Minecraft sono in minoranza rispetto alle gruppe di Royale. Ma va bene lo stesso. In tutti i casi, ragazzoni, penso che per questo video possa essere tutto. Mi raccomando, giù di mi piace, un casino mi piace. Mi raccomando, lasciate sotto nei commenti tante idee. Vi ricordo che ovviamente queste sono soltanto mie idee. Perché la Supercell non aggiungerà mai roba del genere. Cioè, è una cosa così, è un video. Perché ho visto che gli altri vi hanno piaciuti tanto. Allora, l'idea mi era piaciuta di farvi... di parlare una roba del genere. Secondo me sarebbe carino, magari una variante di questo gioco, un retroserver o qualsiasi cosa. Se qualcuno ha voglia di cambiare le skin e di sbatterci tipo mille ore, è libero di farlo. In tutti i casi, ragazzi, a livello dico per questo video è tutto. Vi ringrazio tantissimo per la visione. Vi ricordo che se non mi piace, se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se avete già fatto. Condividete il video su Facebook e per me la sua nuova versione. Mi raccomando, passate in tutti i link in descrizione Facebook e Instagram. Noi ci vediamo come al solito. A un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi.